Il 25 aprile è una festa di tutti. I valori della libertà e della democrazia sono il cuore della nostra Costituzione e non sono né di destra né di sinistra. Lancio un appello a tutte le forze politiche dell'arco parlamentare. Diciamo no alle divisioni. Smettiamola di considerarla una ricorrenza di parte. Festeggiamo il 25 aprile. Festeggiamo la liberazione che appartiene a tutti gli italiani.